Come ogni settore, anche il digital marketing ha i suoi falsi miti. Sì, quelle credenze diffuse che portano a errori, false interpretazioni di dati e fenomeni o quei luoghi comuni che hanno bisogno di prove sul campo per essere sfatati. Spesso si legano alla volontà di accostarsi a questa materia con lo stesso approccio richiesto dal marketing tradizionale, ma come abbiamo già visto, i due settori condividono parte del proprio nome ma non la loro essenza più profonda. Adesso quindi passiamo in rassegna alcuni falsi miti che siete chiamati a riconoscere quando incontrate. Avere tanti follower significa raggiungere tante persone. No, non proprio. La capacità di essere efficaci nella comunicazione sui social media non deriva dall'ampiezza della base utenti che avete, ma dal loro grado di interazione con voi e dalla vostra capacità di targettizzarli nel modo giusto. Meglio pochi interessati all'ascolto che tanti disinteressati silenziosi. Ogni brand deve essere presente su qualsiasi canale digitale. È falso. È come chiedere a una persona di avere una casa in ogni città del mondo. Ciascun brand deve presidiare i canali online che rispondono ai propri obiettivi e ai target che desidera raggiungere. Scegliete dove è importante stare, non state semplicemente dove tutti gli altri hanno scelto di stare. Usare il social media per lavoro è molto semplice. Basta avere un profilo social per essere un social media manager. Molti purtroppo la pensano ancora così e questo è alla base di strategie non oculate. Il social media manager non è solo una persona che sa stare sui social, è qualcuno che ne conosce le logiche interne e le modalità di interazione in un modo profondo. Sa come usarle per raggiungere obiettivi che non sono solo personali o di intrattenimento, ma aziendali e di business. Trova un influencer, mettili in mano un prodotto e il gioco è fatto. Non funziona proprio così. In tanti sono ancorati all'idea che basti un profilo di largo seguito per raggiungere tanti consumatori con il proprio messaggio. Ma l'influencer in sé per sé è solo uno strumento, è il veicolo di una comunicazione. Noi dobbiamo innanzitutto scegliere quello giusto, cioè quello allineato ai nostri valori e alle nostre attività, e poi costruire insieme un progetto che sia credibile per le persone che lo seguono. Senza questi due passaggi non esiste influencer marketing efficace. La SEO è solo una questione di parole chiave. Negli episodi precedenti abbiamo accennato alla SEO, che è l'arte di ottimizzare i contenuti per i motori di ricerca. Questa disciplina risponde a una cruciale domanda. Come faccio a fare in modo che un utente trovi il mio brand tra i primi risultati di Google quando effettua una ricerca? In un mondo come il nostro, che è fatto di ricerche online, la SEO è davvero fondamentale. Non si tratta solo di una tecnica legata all'infrastruttura del web e alle sue logiche, ma è alla nostra capacità di produrre testi più efficaci e utili per le persone. Nei primi anni del web si faceva SEO semplicemente scrivendo articoli infarciti di keyword, cioè le parole chiave che sono alla base della ricercabilità e dell'indicizzazione degli articoli. Nel tempo però l'algoritmo di Google e degli altri motori di ricerca è diventato sempre più sofisticato e oggi è il risultato di centinaia di fattori che si combinano insieme, molti dei quali misteriosi. Ecco perché le parole chiave non bastano più e la SEO si lega prima di tutto alla qualità di quanto stiamo pubblicando e alla pertinenza di questi contenuti rispetto alle ricerche degli utenti che hanno bisogno di informazioni più precise e veloci. Quindi spazio ad articoli più lunghi, più accurati, ricchi di approfondimenti e di link e soprattutto originali, perché sì, Google lo sa benissimo quando mi piace. Fare digital marketing significa crescere subito. Come abbiamo visto il digital marketing si basa sulla completa misurabilità dei dati che arrivano dal mondo del web e delle tecnologie che utilizziamo, ma la possibilità di misurare risultati non deve essere confusa con l'idea di poterli raggiungere nell'immediato, semplicemente stando sulle piattaforme. Quindi costruire una strategia di digital marketing richiede tempo di testarla, potenziarla e poi ottimizzarla, perché è un processo in cui gli utenti interagiscono continuamente con noi, dandoci spunti su come il nostro meccanismo sta effettivamente funzionando. Sono necessari tempo, pazienza e continua capacità di ascolto, prima di poter valutare effettivamente gli effetti di quanto stiamo mettendo in campo. Per riconoscere tutti questi falsi miti servono professionisti che abbiano l'occhio allenato sul settore. Quindi prepariamoci al prossimo episodio, perché conosceremo alcune delle figure che animano questo mondo in continua evoluzione.